ho messo un po di carta qui un po di carta qui se non entra la vernice adesso passiamo il fondo puliamo vediamo vedi lo sporco questo deve andare via se no la vernice non attacca allora siamo pronti per passare l'antiruggine abbiamo fatto questa struttura questa è una struttura diciamo omologata per la vernice ci siamo fermati a tre mani tre mani vediamo un po che roba antiruggine data su tutti i componenti e poi il resto albatoio parafanghi tre mani tre mani dovrebbero bastare allora intanto giusto per informazione con tre mani abbiamo fatto uso di tre bombolette da 400 ml bene il progetto va avanti ciao 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 ciao